Il governo deve amministrare un terzo del PIL, che è il bene pubblico, deve farlo bene, ma per il restante due terzi dobbiamo pensarci noi imprenditori e lavoratori, dobbiamo alzarci le maniche. Stiamo dando troppa importanza alla politica e così ci scarichiamo un po' la coscienza noi, gente comune, dobbiamo tirarsi sulle maniche, smetterla di dire più al governo ladro e darci da fare noi, se assumeremo questi impegni, se aumentiamo la coscienza civica sarà tutto più semplice. Il 2015 è un anno della svolta, ma non certo solo per il governo, ma per tutta l'Italia, per tutti gli italiani, se capiamo che il nostro vero obiettivo finale è raddoppiare almeno le nostre esportazioni.